Ciao a tutti ragazzi, oggi vi spiego come fare per visualizzare i contenuti in flash come giochi o applicativi vari su iPhone 4S con firmware superiore ovviamente al 4.0. Allora, io ho preparato un video, eccolo qui, che vi spiega come si fa. Basta scaricare questo programma, Puffin, che è un browser web alternativo a Safari che supporta i contenuti in flash. Non vi resta, diciamo così, dovete fare altro che scaricarlo o lo comprate dall'app store vedete come cercarlo, eccolo lì oppure per chi ha il jailbreak è possibile trovarlo, reperirlo nel link in descrizione. Ovviamente, una volta che l'avete scaricato, eccolo qui doppio clic, ve lo aggiungerà alla cartella delle applicazioni di iTunes e da iTunes, effettuando la sincronizzazione solo su dispositivi jailbreak, mi raccomando si installerà sul vostro cellulare. Quindi, vediamo un po' come funziona questo Puffin Ovviamente, io sto usando un sito prova che ho creato io per la mia facoltà la mia, magari fosse mia se non ti soldi per le iscrizioni e roba varie Potete vedere, vabbè, in questo caso si tratta di un metacarpo di cavallo che ruota su se stesso effettivamente è stato un mio errore farlo troppo definito perché anche sul computer va piano ha troppi poligoni, troppi vertici quindi il fatto che giri su iPhone è già una grande vittoria perché avrei benissimo compreso se si fosse bloccato ma non l'ha fatto e sta girando anche abbastanza bene quindi funziona e ci sono vari tastini in basso su Puffin che possono servire per giocare in gioco in flash e per navigare, infatti, proprio come sto facendo io in applicativi in flash questo modello è stato creato, ve lo dico così da una serie di foto è stato creato da un programma, questo fatto tutto in automatico io ho dovuto solo fare le foto e il programma ha creato il modello in automatico chi rompe? Non lo so vedremo dopo è privacy bene semplicemente questo per adesso è tutto se optate per la sincronizzazione da computer dovete scaricare da Cydia perché voi avete il jailbreak AppSync per il vostro iOS attenzione che i creatori di AppSync non rinnoveranno più l'ultima versione perché la loro casa, la loro industria è chiuso e quindi l'ultima versione accessibile è quella che dovete scaricare da Cydia bene per adesso è tutto io vi saluto al prossimo video ciao ragazzi e ragazze come sempre